Ciao amici, ciao amiche, this is Jaya, the Indie Girl, welcome back to my YouTube channel. Mi avete chiesto un video sulla mia beauty morning routine e quindi eccovi accontentati. La mattina quando sono alla sveglia per me è sempre un trauma, cerco di rimanere a letto fino all'ultimo minuto, quindi ho veramente pochissimo tempo per la mia beauty routine. As a consequence la mia beauty morning routine è una procedura molto snella, molto veloce, dura al massimo 10 minuti e poi corro, altrimenti sono sempre in ritardo. Prima di iniziare questo video non dimenticate un piccolo pollice alzato e se non siete ancora iscritti alla mia pagina non dimenticate di iscrivervi. Ovviamente vi lascio tutte le informazioni dei prodotti sotto nell'info box, piccola premessa mi scuso per la location, infatti sto girando questo video in cucina perché c'è una luce naturale fantastica, non sto utilizzando nessuna luce artificiale e credo che sia il modo migliore per farvi vedere davvero una beauty routine. Ma adesso direi che è arrivato il momento di incominciare, let's go! Il primo step della mia beauty morning routine è l'utilizzo di un cleansing gel. Al momento sto utilizzando questo gel di talgo che ho trovato nel mio Christmas calendar. Generalmente utilizzo qualsiasi gel detergente, l'importante è che faccia un po' di schiuma. Ovviamente l'utilizzo bagnandolo con un po' d'acqua. Quando ho massaggiato bene procedo al risciacquo. Per togliere eventuali residui del gel utilizzo un panno in microfibra. Secondo step, micro scrub. Utilizzo questo micro clean super scrub di Alfa. Tra l'altro mi trovo benissimo con tantissimi prodotti di questo brand. Questo scrub contiene acido glicolico e menta e vi assicuro che è veramente un piacere massaggiarlo sul viso. L'azione esfoliante di questo scrub è veramente molto delicata, quindi può essere utilizzato tutti i giorni. E' incredibile come sappia di menta. Per togliere eventuali residui di questo scrub utilizzo una spugnetta detergente oppure il classico panno in microfibra. Generalmente già dopo questi passaggi sento subito la pelle super pulita. Ma andiamo avanti. Sulla pelle super pulita e anche super liscia utilizzo adesso una lozione illuminante anti impurità. Luce liquida. Sicuramente conoscete questo prodotto perché sta spopolando ed è stato creato dall'estetista cinica. Avevo comprato questa luce liquida mesi prima di conoscere Cristina dal vivo all'evento 9 Muse a Milano. Tra l'altro sono stata piacevolmente colpita perché Cristina mi ha mandato un pacco regalo per Natale con alcuni prodotti che sto testando e sicuramente vi terrò aggiornati sui risultati. Un prodotto che ha fatto sicuramente la differenza nella mia beauty morning routine è questo prodotto di La Roche che sto provando da due mesi. Si tratta di un trattamento colorato anti imperfezioni, correttivo e purificante, anti segni e anti ricomparsa. Come trattamento quotidiano mi piace tantissimo e penso che abbia fatto la differenza sulle mie discromie. Ne utilizzo veramente poco solo sulla parte dove ho le imperfezioni. Come potete vedere la tinta è leggermente più chiara rispetto al mio colorito, però mi piace tantissimo come base. Next step, ovviamente una crema antiossidante. Sto utilizzando questa di Your Good Skin con SPF 30. Mi trovo veramente bene, è una crema molto ricca e soprattutto per l'inverno credo che sia veramente perfetta. D'estate magari preferisco creme più leggere. Calcolate che la mia beauty morning routine normalmente dura massimo 10 minuti. Ovviamente adesso spiegando i prodotti, raccontandovi i dettagli, sembra veramente più lunga. Per quanto riguarda la zona sotto gli occhi, sto utilizzando un altro prodotto dell'estetista cinica. Anche questo lo avevo comprato mesi prima di conoscere Cristina. Si chiama The Puff e ha un siero anti borse roll on con effetto tensore. Normalmente l'utilizzo sia la mattina sia la sera. La cosa che mi piace di più di questo prodotto è che la sfera in acciaio dà immediatamente un senso di freschezza, perché ovviamente è fredda e quindi l'effetto tensore sembra immediato. Attendo un po' di minuti e poi di solito picchietto. Ho imparato a prendermi cura tantissimo della mia pelle, perché alla fine se non hai una buona base, non c'è trucco che tenga. Di conseguenza do veramente tanta importanza sia alla beauty morning routine che alla night routine. Ultimo step della mia beauty morning routine. Kiehl's. Questa crema idratante Glow Formula con estratto di melograno illumina la pelle e assicura una protezione antiossidante. Il motivo che mi ha fatto innamorare di questa crema è perché contiene dei minerali illuminanti e un Glow Elixir. Et voilà! Pelle pronta per il trucco. E questa era la mia beauty morning routine. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Come vi ho detto all'inizio, la mattina sono sempre in ritardo, quindi questa routine dura al massimo 10 minuti. Cerco di prendermi maggiormente cura della mia pelle la sera, quindi nella mia night beauty routine. Se volete vedere un video sulla mia night routine, commentate sotto questo video con hashtag night routine. Grazie mille e ci vediamo al prossimo video. Grazie mille e ci vediamo.